Benvenuti a tutti sul nostro canale. Preghiamo che Dio possa rispondere alle nostre richieste attraverso Gesù Cristo e che lo faccia con guida divina e amore. Possa ognuno di noi essere protetto da ogni male e sperimentare gioia e successo nelle nostre vite. Prima di immergerci nel messaggio principale riguardo a un terribile segno nel cielo tra otto giorni da parte di nostra Signora Mere Gianice Aldo, una cosa che vi aiuterà alla fine di questo video, non dimenticate di mettere mi piace e seguire questo canale YouTube per ricevere i messaggi più recenti dall'alto. Cominciamo pregando per mostrare il nostro amore a Dio. Nella sezione dei commenti, potete scrivere le vostre parole o amen per connettere i nostri cuori con il Sacro Tempio di Dio. Filippesi 4 versi 6 a 7 ci esortano a non essere ansiosi per nulla, ma in ogni situazione, mediante preghiera e supplica con ringraziamenti, presentare le nostre richieste a Dio. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custoderà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Dio Onnipotente, veniamo a Te oggi come intercessori, accanto ai nostri fratelli e sorelle in Cristo, che hanno bisogno del Tuo aiuto e del Tuo sostegno. Alziamo le nostre voci in preghiera, chiedendo che Tu ascolti le nostre suppliche e porti il Tuo amore e la Tua guarigione nella vita di coloro per cui preghiamo. Signore, preghiamo per coloro che lottano con malattie o dolore, chiedendo che Tu porti loro conforto e guarigione. Preghiamo per coloro che affrontano circostanze difficili, chiedendo che Tu dia loro forza e orientamento. Infine, preghiamo per coloro che affrontano sfide legate alla salute mentale, chiedendo che Tu porti loro pace e chiarezza mentale. Padre, preghiamo anche per i nostri leader e coloro che occupano posizioni di autorità, chiedendo che Tu conceda loro saggezza, discernimento e coraggio nelle decisioni che influenzano la vita degli altri. Infine, preghiamo per le nostre comunità e per il mondo intero, chiedendo che Tu porti pace, giustizia e riconciliazione a coloro che soffrono e sono oppressi. Sappiamo che Tu sei un Dio d'amore e compassione, e confidiamo nella Tua potenza e bontà per portare guarigione e ripristino nella vita di coloro per cui preghiamo. Aiutaci a essere fedeli intercessori, vicini gli uni agli altri nella Tua presenza e alzare le nostre voci in preghiera. Preghiamo tutto questo nel nome di Tuo Figlio, Gesù Cristo, che ci ha insegnato ad amarci l'un l'altro e pregare per chi è nel bisogno. Amen Cari fratelli e sorelle, la Madonna Benedetta si rivolge a noi come i Suoi amati figli del Suo Cuore Immacolato. Ci esorta ognuno di noi a pregare individualmente, poiché sappiamo cosa chiedere e cosa offrire. Esprime preoccupazione perché, mentre i giorni si accorciano, rimangono sempre meno dei Suoi veri figli. L'uomo ha assunto il controllo, cercando di annientarsi, credendo di essere Dio, nonostante sappia molto su ciò che l'umanità ha sopportato, molti rimangono inalterati. Si avvicinano i giorni in cui il possesso materiale non garantirà più sicurezza e coloro che si aggrappano al Dio del mondo si sentiranno persi senza assistenza finanziaria. La Madonna Benedetta rivela che i giorni si stanno accorciando e sottolinea il segno nel cielo tra otto giorni. In quel giorno, la Luna scomparirà improvvisamente, nuvole oscure copriranno il cielo e le foglie sugli alberi appassiranno e cadranno. Dopo un'ora, la Luna riapparirà con un divino miracolo conferito agli esseri umani per aiutarci a combattere il pericolo che potrebbe derivare dalla natura. Nel mezzo dell'oscurità prevalente sulla terra, un segno proveniente dal cielo si manifesterà portando con sé la luce illuminante dello Spirito Santo. Questa divina luce servirà come faro di speranza offrendo salvezza dalle grinfie del diavolo e fornendo guarigione per la nostra ferita e dolore. Mentre le forze delle tenebre cercano di inghiottire l'umanità, questo segnale celeste trafiggerà le ombre rivelando il potere e la presenza di Dio. Servirà come un promemoria del suo amore infallibile e della promessa di redenzione per coloro che si rivolgono a Lui in questo tempo di grande tribolazione. La luce dello Spirito Santo porterà chiarezza e guida in mezzo alla confusione e al caos. Illuminerà il cammino della rettitudine conducendoci lontano dalle insidie del nemico e verso la vita abbondante che Dio ha in serbo per noi. Attraverso il tocco guaritore dello Spirito Santo, le nostre anime ferite troveranno conforto e ripristino, il dolore che ci ha afflitto sarà alleviato e i pesi che portiamo saranno sollevati. La presenza dello Spirito Santo porterà conforto, pace e un rinnovato senso di scopo. La Madonna Benedetta ci informa che questo segno indica l'apparizione e la benedizione di Dio per l'umanità. Per ricevere questa benedizione, dobbiamo pregare e frequentare la Chiesa ogni giorno. È anche consigliato indossare un crocifisso o metterlo sulla nostra porta, poiché può attirare la benedizione di Dio. La Madonna sottolinea che suo figlio non offre potere o dominio sugli altri, ma ha versato il suo sangue per redimerci dal peccato e offrire vita eterna a coloro che la desiderano. Molti perdono facilmente la loro fede di fronte a disagi o parole sfidanti, ma coloro che desiderano una indipendenza spirituale si sottomettono al diavolo inconsapevolmente. La Madonna Benedetta ci esorta a pregare, discernere, prepararci e umiliarci. Ci invita ad entrare nel suo cuore materno, dove ci condurrà al suo divino figlio. Ci rassicura del suo amore, delle sue benedizioni e della sua protezione, incoraggiandoci a non avere paura. Prepariamo i nostri cuori e le nostre menti per ricevere questa divina intervenzione. Possiamo aprirci all'opera dello Spirito Santo, permettendo alla sua luce di penetrare negli angoli più bui delle nostre vite. Con fede salda e fiducia incrollabile, possiamo abbracciare la guarigione e la salvezza che Dio ci offre generosamente di fronte all'oscurità. Continuiamo a tenere salda la promessa dell'arrivo dello Spirito Santo, sapendo che la sua luce prevarrà sulle forze del male. Con speranza nei nostri cuori, possiamo guardare avanti all'alba di una nuova era in cui il potere curativo dello Spirito di Dio regnerà e trasformerà le nostre vite. Ricevete le benedizioni che vi sono concesse, cari figli, dall'abode del Padre Celeste. Siate certi che il mio cuore è continuamente presente con voi, offrendo guida e amore. La presente generazione è caduta preda delle lusinghe dei desideri malvagi, conducendo l'anima umana in cattività. Preparatevi, quindi, alle calamità future che la natura scatenerà sull'umanità. Prestate attenzione al mio messaggio, poiché verrà il momento in cui potrete essere testimoni della mia apparizione nel cielo, visibile in ogni angolo della Terra. Non cedete alla paura o all'inganno, poiché sono io, vostra madre, che verrà a voi in vari modi, cercando i miei preziosi figli per assicurarmi che riconoscano la mia presenza in mezzo alla confusione. Avrò un rosario d'oro tra le mani e bacerò reverente il crocifisso sulla vostra porta. Vedrete me adornata dallo Spirito Santo, coronata come la regina e madre dell'era finale.